In chiesa sì, ma da soli. Una nota del Viminale torna a chiarire le norme legate ai luoghi di culto anche in vista della Settimana Santa in risposta a quesiti giunti al Ministero dell'Interno. Le chiese restano aperte, ma come è noto, senza messe. Sì, allora la preghiera è individuale vicino a casa, ma no in una chiesa lontano da casa. Insomma, tornerà il tempo per i pellegrinaggi, anche per quelli in solitaria. E poi il nodo forse più discusso, sì all'accesso in chiesa in occasione di spostamenti per necessità, come lavoro e spesa e con autocertificazione, ma no all'accesso in chiesa in occasione di spostamenti senza necessità, che, lo ricordiamo, non dovrebbero mai esserci. L'obiezione a primo impatto condivisibile è che sia lo stesso spostamento per andare in chiesa la vera necessità. Ma a tal riguardo, scorrendo attentamente la nota, si legge che è ovviamente l'emergenza sanitaria ad aver limitato alcuni diritti costituzionali, incluse le attività di culto tradotto. Tali limitazioni non sono di certo introdotte in odium fidei, cioè contro la fede, e quindi, come altrettanto evidente, in discussione c'è la salute pubblica, non la libertà religiosa. Di qui le norme per la settimana santa, accesso consentito in chiesa a celebranti, diacono, lettore, organista, cantore e cameraman. Anche se il servizio liturgico non è direttamente assimilabile a un rapporto di impiego, precisa la nota, il Viminale suggerisce di scrivere sull'autocertificazione comprovate esigenze lavorative, per rafforzare il concetto che si esce di casa solo per necessità, no invece all'accesso in chiesa ai fedeli durante i riti pasquali.